Frassetto shotta in tre sono momenti di tensione sono momenti che ci porteremo dietro tutta una vita è il momento di conoscere la verità ad un anno dalla vittoria del mondiale ecco in esclusiva il tributo personale di Frassetto un'altra sua avventura e forse chissà l'ultima Frassetto on fire Frassetto now Buonasera ragazzi momenti di suspense signore E' un po' che qua che mi prendi per il caso E' un po' che qua che mi prendi per il caso E' un po' che qua che mi prendi per l'idio In tutto l'imposibile Si che la parte Si che la parte Non lo voglio dire di Frassetto No lo voglio dire di Frassetto Eeeeeee La C'è To' La C'è To' La C'è To' Grazie